Oggi vi voglio parlare di Ampli, in questo caso Ampli 515, che è un prodotto della ditta Goma di Adrianololli.com, è un amplificatore d'immagine e serve per ottenere immagini ad alta risoluzione, soprattutto di pianeti e della Luna. Funzione in accoppiata con una qualunque camera, purché abbia l'innesto T2. Ampli viene fornito di base con la versione minima, diciamo così, che ha il minimo ingrandimento, quindi a circa 5x. A questa versione si possono aggiungere e vengono dati in dotazione due anelli, che servono per aggiungere i 10 e i 15 ingrandimenti. Semplicemente vengono accoppiati gli anelli, possiamo usare uno, due o entrambi, o tutti e tre. Gli anelli si avvitano semplicemente, bisogna togliere la base di Ampli e aggiungere le estensioni e poi si avvita Ampli in fondo. Vi consiglio all'inizio di usarlo in maniera più compatta, quindi al minimo ingrandimento, perché è più facile da capire nel funzionamento. Allora, Ampli funziona così, togliamo il tappo, dobbiamo togliere il naso dalla camerina, in questo caso è un Asi 290 a colori, ecco fatto, quindi abbiamo Ampli montato sulla camera. Questa possiamo inserirla direttamente nel telescopio, nell'attacco da 31.8 e quindi abbiamo la camera montata. L'unica accortezza è che normalmente, quando montiamo la camera, per avere la direzione corretta dell'immagine, dobbiamo avere la camera con l'attacco USB in basso. Ampli, vi ricordo, che rovescia l'immagine, quindi quando utilizziamo Ampli dobbiamo portare in alto l'attacco USB, per avere l'immagine dritta, per non vederla sotto sopra. Ampli funziona facilmente, per mettere a fuoco con Ampli basta mettere a fuoco con un oculare, semplicemente, quindi togliete l'oculare e mettete Ampli e il sistema è già praticamente a fuoco, dovrete solamente ritoccarlo un momentino. Adesso vediamo degli esempi che ho eseguito con questo mini Borg 50 di giorno, su un panorama lontano e vedremo il risultato comparando la camera al fuoco diretto del telescopio, la camera collegata con Ampli 515 alla minima distanza, quindi al minimo fattore e utilizzando la camera con una Barlov della Bader 2,5x per vedere differenze di risultato, di qualità e di dimensione dell'immagine. Spero che il video vi piaccia e arrivederci alla prossima e grazie. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti